Arranciatevi. Hola, todo bien? Con la coda. Oggi piccolo trucco che io utilizzo quando devo applicare l'automazione. Proprio una cosa cortissima. Passiamo alla schermata di logic che non troviamo perché non ho aperto. Figura marrone. Pausa. Passiamo senza portempo in mezzo alla schermata del logic pra. Eccola qui. Ho registrato questa robetta. Ok? Mettiamole su per PEM. Ecco qua. Qua, qua, qua. Cosa succede? Dovrei mettere... Allora, analizziamo... Vabbè, sul piano non c'è... niente interventi da fare. Vediamo su questa voce. Ok, sappiamo benissimo che possiamo comprimerla per renderla più regolare. Ci mettiamo una roba... qualunque, al solito 1176, togli la, e allora, magari mettiamo anche un po' di limiter, vediamo come si muove. Ok, e questo la blocca sicuramente, la rende più lineare, possiamo fare un bounce in place, e così ne abbiamo subito subito la region in place, giovane, 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 allora facciamo questo region in place, vediamo cosa succede, come vedete si è ammorbidita a voglia, no? Ascoltiamo. E questo è un metodo. Andiamo a vedere per l'automazione, quindi smorziamo questa, riapriamo questa qui, che lui mutizza di default quando facciamo i region in place. Cosa possiamo fare? Intanto andiamo ad aprire il mixer, e per mettere l'automazione sappiamo che dobbiamo dare, questa è la traccia audio, che dobbiamo automatizzare, dove dice read, gli mettiamo un bel latch, piripì, piripà, quindi questi affari, questi movimenti verranno da lui registrati, lo vedremo meglio attivando la grafica, ed eccoci qua, quindi vedi, così è fermo, e quindi alza e abbassa soltanto il volume, nello scorrere del tempo invece disegna così. Rimettiamo in read, va bene? Ok. Allora, a mio avviso, a mio avviso, POV, point of view, my, mPOV, my point of view, oppure una volta si diceva IMO, in my opinion, eccetera, eccetera. Allora, tutti questi puntini, comunque sono un affaticamento della CPU, comunque è un lavoro che deve fare, perché? Deve passare da uno all'altro, all'altro, all'altro. ora lo scopo è quello di dare una botta qui quindi mettiamo tutto facciamo tutto lineare adesso siamo sul volume dobbiamo abbassare qua tanto vale che facciamo così così e così dopodiché abbiamo ottenuto lo stesso risultato con soli 4 punti di calcolo e la CPU ti ringrazia e content bene allora andiamo a farlo adesso il bounce della region quindi le region in place con il solito procedimento però questa volta però questa volta dobbiamo ricordarci di attivare includi volume pane automazioni e vediamo che proprio in questo punto questo è il file di riferimento ha registrato la nostra automazione quindi ascoltiamolo abbiamo ottenuto così lo stesso risultato di quando muovevamo il cursore senza tutti i puntini che sono in qualche modo affaticamento per la CPU ok? naturalmente ci sarà qualche purista che dirà eh ma così però hai delle linee squadrate vi ricordo che possiamo anche creare dei punti e quindi avere la possibilità di però comunque sempre sempre squadrate sono invece se le vogliamo graduali quindi rotondeggianti per togliere il punto basta doppio cliccare qua noi abbiamo la possibilità sempre di prendere o il tool automation curve tool che funziona in questo modo ah vale sempre se prendi se pizzichi sopra e tiri verso giù ottieni questo tipo di curva idem se prendi da giù e pizzichi verso su fermo ok? e devi salire dritto se invece prendi a metà e fai così hai questa S da questa parte oppure da quest'altra non vuoi prendere il tool? allora basta fare ctrl shift e il puntatore si trasforma in quel tool quindi abbiamo sempre la stessa storia ok? preso al centro fa sempre la S andù preso giù e tirando verso il basso fa la curva così e quindi abbiamo anche le curve rotonde kundent e niente era così un breve trick sull'automazione per questo video lino questo video lino io vi invito sempre a supportare il canale a sopportare me a supportare il canale a parte di scherzi grazie per quanti si stanno iscrivendo lasciatemi sempre nei commenti le vostre opinioni i vostri suggerimenti che altro non dimenticate appunto di iscrivervi schiacciare la campanellina così rimarrete aggiornati su ogni mia publication condividete peraltro lezioni online beat base contattatemi qui bene vi saluto vi lascio il gingolino e poi la sigla bye bye iscrivetevi 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 al canale yeah yeah Grazie a tutti